Ben trovati, con un misto di orgoglio e soddisfazione sono lieto di presentare l'uscita del mio nuovo libro, Evo Diet, Ormoni, Cibo ed Esercizio, che si potrebbe definire il libro dei perché. Il volume, estraneo alla narrativa dominante a uso e consumo della mandria, sviscera i veri motivi dei continui, innumerevoli ostacoli che ci impediscono di essere finalmente veri, sani, liberi, felici, come natura vorrebbe. Si tratta di 24 capitoli frutto del lavoro di studio e divulgazione che porto avanti da decenni. Oltre 200 pagine, dense di riferimenti scientifici, diagrammi, schemi e illustrazioni. Pagine che chiariscono ad esempio perché il testosterone è così importante per le relazioni sociali e per la nostra salute. Perché la scienza è divenuta una religione sempre più asservita al potere e al denaro. Perché i carboidrati sono più pericolosi della morfina. Perché il cosiddetto esercizio cardiovascolare è inutile se non addirittura controproducente e moltissimo altro ancora. Evo Diet, Ormoni, Cibo ed Esercizio è in vendita su Amazon al link che trovate qui sotto nella descrizione del video. A tutti un buon risveglio e una buona lettura.